Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Cantava così tanti anni fa il grande Francesco De Gregori nella leva calcistica del 68, una canzone che ha fatto storia, ha fatto epoca, ci è rimasta nel cuore. Vale anche per la politica, almeno valeva in questa circostanza, elezioni regionali in Liguria. Si votava dopo uno scandalo clamoroso che ha coinvolto la regione, che ha tenuto l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari per sette mesi e poi con un patteggiamento l'inchiesta si è di fatto chiusa e sotto processo sono finiti tutti i signori del porto e buona parte dell'amministrazione regionale Ligure. Dunque scioglimento del consiglio, elezioni anticipate, per il centrosinistra un'occasione irripetibile, appunto un rigore a porta vuota contro un avversario disfatto e spugnato, di fatto praticamente già sconfitto e invece il meraviglioso epocale campo largo è riuscito a sbagliare anche il rigore a porta vuota. Ovviamente sono contento, sono contento per la Liguria soprattutto, sono contento per i cittadini perché i cittadini hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere, vogliono continuare, rifiutano i signori del no e rifiutano quelli che non vogliono fare le infrastrutture, quelli che anche solo venerdì scorso hanno fatto un altro ricorso al TAR contro Galliera e così via, cioè quelli che non vogliono fare le cose di cui invece abbiamo bisogno. Noi ci impegneremo ovviamente a fare le cose come sul programma, questo mi sembra abbastanza scontato però volevo sottolinearlo. Abbiamo da fare cinque anni di grande lavoro, Genova ovviamente non sarà lasciata da parte come qualcuno ha detto, anzi qualcuno ha scritto anche, no, noi ci occuperemo anche di Genova come ci occuperemo anche di tutte le province. Eccolo qua, lo avete appena sentito, il nuovo governatore della regione Ligure. Tutti erano convinti che sarebbe stato Andrea Orlando, candidato del PD e soprattutto del campo largo, quello che avrebbe dovuto tirare per l'appunto il rigore a porta vuota. Una porta sguarnita perché come abbiamo detto e come abbiamo visto la precedente amministrazione era stata spazzata via dallo scandalo e di fatto tutta la classe dirigente ligure e genovese in particolare che ruotava intorno al porto da Aldo Spinelli ai collaboratori di Giovanni Totti fino ad arrivare quantomeno all'ambire il sindaco di Genova, quel Marco Bucci che invece si è ricandidato alla regione Liguria proprio contro Andrea Orlando e a sorpresa il rigore lo ha parato lui, anzi lo ha segnato lui. Infatti alla fine per un Andrea Orlando che lo sbaglia un Marco Bucci lo segna e così la regione Liguria in maniera del tutto inopinata resta ancora una volta alla destra che stravince. Anche se di un'incollatura la distanza tra i due candidati è minima ma la stravittoria è tale proprio perché doveva essere una fatale inevitabile sconfitta e invece ad uscire sconfitto è stato chi doveva vincere. Questa tornata di elezioni regionali la perde soprattutto l'opposizione appunto il centro-sinistra intanto perché diciamola tutta aveva schierato un puro sangue possiamo definirlo così Andrea Orlando Ligure anche lui un alto dirigente uno dei più importanti dirigenti del Partito Democratico dunque l'investimento politico era stato grande alto impegnativo lo stesso Orlando ci aveva pensato un po' alla fine aveva sciolto la riserva convinto appunto che un rigore a porta vuota non si potesse sbagliare e invece è stato sconfitto quindi perde l'opposizione perde il presunto sedicente campo largo ma all'interno del campo largo non perde il Partito Democratico che nonostante abbia schierato appunto uno dei suoi uomini più rappresentativi ha portato a casa almeno in termini di voto di lista un risultato significativo quasi il 29 per cento il doppio dei voti di Fratelli d'Italia per intendersi è il segno che Ellis Line il suo lavoro lo sta facendo in maniera dignitosa e anche proficua e gli elettori glielo riconoscono ma è una ben magra consolazione ti serve a poco essere il primo partito di un campo largo del tutto scompaginato e ti serve a poco o forse ancor meno essere il primo partito in Italia ove mai questo si verificasse se poi non hai alleati con i quali puoi governare e qui c'è il vero senso della sconfitta perché queste elezioni regionali in Liguria il campo largo inesistente le perde per colpa di una delle due gambe che doveva tenere insieme la proposta alternativa e cioè il movimento 5 stelle anche qui cronaca di una disfatta se vogliamo per alcuni versi annunciata perché troppa acqua è corsa sotto i ponti ponti devastati un'acqua che ha travolto tutto e tutti in un movimento 5 stelle ormai del tutto balcanizzato dove Beppe Grillo Ligure a sua volta ha lanciato la battaglia campale contro l'avvocato del popolo contro quella sua creazione originaria Giuseppe Conte che lui stesso aveva tirato fuori dal cilindro magico come fosse la soluzione di tutti i problemi nel momento in cui il movimento 5 stelle nel 2018 vincono le elezioni ma si rendono conto che dovendo governare insieme alla Lega non possono esprimere il presidente del consiglio attraverso uno dei loro alti dirigenti Luigi Di Maio o Alessandro di Battista e dunque si affidano appunto al papa straniero un avvocato che nessuno conosceva e che adesso diventa il principale antagonista dell'elevato l'elevato contro l'avvocato chi vincerà non si sa di sicuro perde il movimento che si eplissa e in Liguria dove è nato ottiene poco più del 4 per cento e soprattutto perde in prospettiva perché nella diaspora tra Conte e Grillo nessuno capisce cosa ne sarà del movimento 5 stelle originario Grillo lo vuole difendere ma Conte ormai ha fatto il suo partito con i suoi fedelissimi Grillo vorrebbe tornare alle origini un movimento che non è né di destra né di sinistra Conte non sa dove vuole andare non è neanche in grado di dire se preferisce che vinca negli Stati Uniti Trump o meno di fatto non sono in grado di allearsi con il partito democratico in maniera organica e soprattutto scivolano sul veto a Matteo Renzi un impedimento comprensibile intendiamoci Renzi è un alleato scomodo si porta dietro un gigantesco conflitto di interessi si porta dietro i suoi rapporti inaccettabili con un regime come quello saudita dal quale prende l'auto i compensi per le sue conferenze Renzi lo sappiamo il Gep Gambardella della politica italiana è felice di far fallire le feste altrui diciamolo pure è un alleato molto molto ingombrante ammesso che sia un alleato a mettere il veto ha significato comunque quel poco tanto di consensi che può portare Renzi sono svaniti certo in politica non è mai detto che il 2 più 2 faccia 4 perché se anche ci fosse stato l'accordo con Renzi non sappiamo quanti voti dei 5 stelle poi se ne sarebbero andati via o magari anche di alleanza verdi e sinistra ma in ogni caso questo sarà oggetto di una riflessione successiva per oggi quello che si può dire è che in Italia non esiste un'alternativa possibile la Liguria lo ha dimostrato in modo drammatico se vogliamo e dunque vince o meglio simbolicamente stravince la destra di Giorgia Meloni perché l'intuizione della Presidente del Consiglio stavolta lo possiamo dire in maniera chiara netta e inequivocabile c'è stata e ha riguardato la scelta del candidato proprio quel Marco Bucci già sindaco di Genova lambito dallo scandalo dallo scandalo Toti ancorché non travolto dal medesimo tuttavia si è rivelata una scelta vincente a Genova la destra ha perso perché nel capoluogo Andrea Orlando ha fatto il pieno ma sono stati sufficienti i voti di Scaiola in arrivo da Imperia e poi in generale il consenso intorno a un candidato che è parso l'uomo del fare quello che non avrebbe gettato via il bambino con l'acqua sporca per intenderci lo scandalo Toti insieme a tutto il volume di affari e di investimenti che intorno a Genova continuano a ruotare e di cui Marco Bucci può essere il garante Meloni lo ha capito e ha fatto la scelta giusta così a questo punto la tornata di elezioni regionali che cominciava almeno in questo autunno proprio con la Liguria è cominciata nel modo migliore per il governo e per la maggioranza le prossime tappe saranno Emilia Romagna e Umbria e se si partiva almeno dal punto di vista del centrosinistra con l'illusione di fare un bel cappotto 3 a 0 contro la destra in realtà già si comincia con un 1 a 0 per la destra l'Emilia è difficile immaginare che possa far registrare un'altra disfatta da parte del fu campo largo ma l'Umbria a questo momento è seriamente impredicato e dopo ci sarà il referendum sull'autonomia differenziata anche quella una sfida fondamentale anche nella chiave della possibile e futura alternativa ma con questi chiari di luna viene da pensare e da temere che nulla sia scontato persino sul referendum che riguarda una legge che spacca in due l'Italia visto che al nord la destra tiene persino in una regione devastata dagli scandali come è stata appunto la Liguria e allora se tutto questo è vero una considerazione finale andrà fatta nonostante il mal governo nonostante una classe dirigente di impresentabili nonostante gli autocomplotti Giorgia Meloni può dormire suoni tranquilli il centrosinistra l'opposizione non solo non è in grado di segnare un rigore a porta vuota ma in queste condizioni non vincerebbe la partita neanche a tavolino Circo Massimo lo spettacolo della politica è un podcast di Massimo Giannini una produzione one podcast